La presenza dei cavalli allo stato brado nel nostro entroterra è stata più volte all'ordine del giorno. Si tratta di una quarantina di capi di origine in realtà domestica, la cui esistenza si è adattata alla vita selvatica negli ultimi 15-20 anni. Allo stato attuale vivono nelle zone più elevate ed impervie del parco naturale regionale dell'Aveto, ma scendono a valle nella stagione più fredda per cercare un clima più mite. Di qui nascono i problemi di convivenza con la realtà rurale, contadina e di campagna, specie nelle valli Graveglia, Sturla e Penna. Ma per naturalisti e studiosi del comportamento animale, la loro presenza in realtà rappresenta una risorsa per il territorio, capace di attrarre turismo. Ne sono convinte due naturaliste, Paola Marinari e Develina Isola, che nel 2012 hanno iniziato l'attività di Wild Oars Watching, osservazione dei cavalli allo stato brado. Ora, per cercare una soluzione al problema di convivenza con la popolazione rurale, è stata pubblicata online su change.org una petizione. Firmarla significa chiedere che la regione stanzi i fondi ad hoc per posizionare recinti elettrificati a protezione delle proprietà. Tutto quello che si è fatto finora è stato fatto completamente senza risorse, quindi diciamo finché si può, si fa tutto senza risorse, a questo punto chiediamo che siano investiti dei soldi per gestire quella che può essere sicuramente una grande risorsa per tutta la regione a livello di immagine, a livello economico magari per le nostre valli in particolare, ma che però va gestita in modo da trovare una giusta convivenza con la vita rurale. Anche perché la loro presenza è rara in Italia, lo stato a cui vivono loro, quindi la totale indipendenza dall'uomo, si riproducono, bevono e si alimentano in totale autonomia, è più unica che rara in Italia. Ci sono realtà in Italia, come alcuni parchi del nord, che addirittura sono riusciti a finanziare con fondi europei l'acquisto di cavalli per mantenere i pascoli di alta quota. Quindi loro se li sono comprati, noi ce li abbiamo, possiamo sfruttare questa presenza in molteplici modi.